Un piatto gustoso ed essenziale, ricco di carote, ideale come antipasto. Raccogliere 500 grammi di carote, 2 uova, pan grattato, sale e olio d'oliva. Bollire le carote in acqua salata affinché non diventano morbide. Schiacciare le carote morbide, aggiungi le uova, il sale e il pan grattato. Formare delle crocchette con l'impasto di carote, uova e pan grattato. Friggere le crocchette in olio d'oliva caldo fino a doratura. Friggere le crocchette in olio d'oliva caldo fino a doratura.